la locanda della tormenta presenta conan lo stagno dei neri buon ascolto per l'occidente sconosciuta all'uomo salparo navi dagli albori del mondo leggi setosi ciò che schelos scrisse strusciando sete con le morte dita segui le navi a naufragar col vento segui le navi che non fan ritorno sancia un tempo della coldava sbadigliò con grazia stiracchiò lascivamento il corpo flessuoso e si sistemò in una posizione più confortevole sulle sete frangiate d'ermellino stese sul ponte poppiero della caracca la ragazza si rendeva pigramente conto delle vampate di interesse che suscitava nell'equipaggio sulla tolda e sul castello di prua e del fatto che la corta gonna di seta nascondeva ben poco delle sue forme voluttuose a quegli sguardi avidi perciò sorrise con aria insolente e si preparò a cogliere ancora qualche strizzatina d'occhio prima che il sole che stava appena spingendo fuori dall'oceano il suo disco dorato la abbagliasse ma in quell'attimo le giunse all'orecchio un suono diverso dallo scricchiolio delle fiancate lo schiocco del cordame oppure lo sciabordio delle onde si alzò a sedere con gli occhi fissi alla murata sulla quale con suo immenso stupore si arrampicava una figura gocciolante spalancò gli occhi scuri e le labbra rosse formarono una o di sorpresa non aveva mai visto prima il nuovo venuto l'acqua gli scorreva rivoli dalle larghe spalle lungo le braccia muscolose il suo unico indumento un paio di calzoni di lucida seta scarlatta era bagnato fradicio come l'ampia cintura dal fermaglio dorato che sorreggeva il fodero della spada fermo sulla murata l'uomo si stagliò contro il sole nascente come una gigantesca statua di bronzo fece scorrere le dita fra i lunghi capelli neri e gli occhi azzurri gli si accesero quando si posarono sul corpo della ragazza chi sei da dove arrivi chiese sancia l'uomo fece verso il mare un gesto che ha escluso un intero quarto dell'orizzonte e continuò a tenere gli occhi fissi sul corpo flessuoso cosa sei un tritone per spuntare fuori dal mare chiese la ragazza sconcertata dalla franchezza di quello sguardo anche se era abituata alle occhiate di ammirazione prima che potesse rispondere risuonò sulle tavole il passo veloce del capitano della caracca che rimase a osservare lo straniero tormentando con le dita l'elsa della spada e tu chi diavolo sei chiese in tono niente affatto amichevole sono conan rispose l'altro senza scomporsi sancia aguzzò di nuovo gli orecchi non aveva mai sentito parlare lo zingariano con un accento come quello dello straniero e come hai fatto a salire a bordo della mia nave a nuoto a nuoto brutto bastardo vuoi prenderti gioco di me non siamo più in vista della terraferma da parecchio da dove arrivi conan fece segno col braccio scuro e muscoloso verso oriente dove il sole nascente stendeva una striscia d'oro vengo dalle isole l'altro lo osservò con crescente interesse aggrottò le sopracciglia scure guardandolo con aria torva e alzò le labbra sottili in una smorfia che non prometteva nulla di buono così sei uno di quei bastardi baracani le labbra di conan si incresparono in un lieve sorriso e sai chi sono io sì questa nave è il rifiuto quindi tu devi essere zaporavo già il fatto di essere conosciuto solleticò la vanità sinistra del capitano era un uomo alto almeno quanto conan anche se meno massiccio il morione d'acciaio incorniciava il suo volto scuro melanconico da uccello da preda per il suo volto i suoi uomini lo chiamavano l'avvoltoio indossava vesti e armatura riccamente ad orne secondo la moda della nobiltà zingariana non aveva mai staccato la mano dall'elsa della spada non c'era molta benevolenza nello sguardo che posava su conan non correva buon sangue fra i rinnegati zingariani e i fuori legge che infestavano le isole baraca al largo della costa meridionale della zingara questi ultimi erano per la maggior parte marinai di estrazione argosiana con un pizzico di altre nazionalità pirateggiavano il naviglio e saccheggiavano le città costiere della zingara proprio come i pirati zingariani che però nobilitavano la loro professione chiamando se stessi corsari mentre davano la qualifica di pirati ai baracani non erano nei primi negli ultimi ad abbellire così il nome di ladrone pensieri del genere passarono nella mente di zaporavo mentre giocarellava con l'elsa della spada e osservava cigliato l'ospite non invitato conan non lasciò trasparire traccia di quelli che potevano essere i suoi pensieri stava fermo con le braccia concerte tranquillo come se fosse sulla tolda di una nave sua aveva il sorriso sulle labbra e i suoi occhi erano calmi che cosa fai qui ho scoperto che dovevo lasciare il luogo di convegno alla tortage prima che spuntasse la luna la notte scorsa me ne sono andato in una barca piena di falle e ho remato e aggotato per tutta la notte proprio all'alba ho scorto i pennoni delle tue vele e ho lasciato affondare quella tinozza perché a nuoto facevo più in fretta ma ci sono i pesce cani in queste acque brontolò zaporavo e provò un vago senso di irritazione all'alzata di spalle che ebbe come risposta un'occhiata verso il ponte gli mostrò una fila di volti impazienti che guardavano verso l'alto una parola sarebbe stata sufficiente per farli balzare sulla poppa in un mulinare di spade che avrebbero avuto ragione anche di un uomo abituato alle battaglie come sembrava essere lo straniero perché dovrei caricarmi di ogni feccia senza nome che il mare rigetta a una nave può sempre far comodo un buon marinaio in più rispose conan senza mostrare risentimento zaporavo si accigliò riconoscendo la verità di quell'affermazione esitò e così perse la nave il comando la donna e la vita ma ovviamente zaporavo non poteva prevedere il futuro e per lui conan era solo un'altra rifiuto rigettato dal mare come aveva già detto quell'uomo non gli piaceva eppure non l'aveva provocato i suoi modi non erano insolenti piuttosto più fiduciosi di quanto non gli piacesse lavorerai per la pagnotta e ora via dalla poppa e ricordati qui l'unica legge sono io il sorriso sulle labbra di conan sembrò allargarsi senza esitazione ma senza fretta si girò e scese sulla tolda non guardò di nuovo verso sancia che durante la breve conversazione l'aveva osservato con desiderio tutta occhi e orecchi appena sulla tolda la ciurma si strinsa addosso a conan erano tutti zingariani seminudi con le vesti di seta vivace macchiate di catrame e gioielli che scintillavano dagli orecchini e dalle impugnature dei pugnali erano impazienti di dedicarsi al divertimento venerabile per l'antichità di tormentare lo straniero l'avrebbero messo alla prova e così sarebbe stata decisa la posizione che egli avrebbe occupato nella ciurma sulla poppa zaporavo doveva già essersi dimenticato dell'esistenza dello straniero ma sancia osservava attentamente tutta tesa aveva ormai familiarità con scene del genere e sapeva che la prova sarebbe stata brutale e probabilmente sanguinosa ma la sua familiarità con quelle usanze era nulla paragonata a quella di conan il cimbero sorrise lievemente quando vide che sul ponte le figure minacciose gli si avvicinavano con truculenza si fermò e guardò il cerchio era impassibile per niente scosso esisteva un certo codice d'onore in quel genere di cose se avesse assalito il capitano l'intera ciurma gli sarebbe saltata alla gola ma ora gli avrebbe concesso un'onesta lotta contro l'uomo scelto per attaccare briga il prescelto si fece avanti un brutto muscoloso con una fascia scarlatta annodata attorno alla testa come un turbante aveva il mento sottile e sporgente il volto incredibilmente crudele coperto di cicatrici ogni occhiata ogni movimento spavaldo costituivano un insulto il suo modo di cominciare era primitivo maligno e crudele come lui stesso la baraca è quel posto dove allevano cani al posto di uomini noi della confraternita gli sputiamo addosso così e sputò in viso a conan e agguantò la spada il movimento del cimbero fu troppo rapido per essere seguito da occhio umano il suo pugno simile a un maglio scricchiolò con un impatto terrificante contro la mascella dell'assalitore e lo zingariano si trovò catapultato in aria e ricadde in un mucchio accartocciato vicino alla murata conan si voltò verso gli altri tranne che per un lampo assopito negli occhi il suo aspetto non era cambiato ma la prova era finita con la stessa rapidità con cui era cominciata i marinai sollevarono il loro compagno la mascella rotta pendeva inerte la testa ciondolava in modo innaturale per mitra all'osso del collo rotto bestemmiò un vecchio predone dalla barba nerissima voi corsari siete una razza dalle ossa fragili nella baracca non facciamo caso a buffetti come quelli volete provarci con la spada voi nessuno bene siamo amici allora no tutti quanti si affrettarono ad assicurargli che era proprio così braccia abbronzate gettarono il corpo del morto dalla murata e una dozzina di pinne solco l'acqua conan rise e spalancò le braccia possenti come un grosso felino che si stiracchia e con lo sguardo cercò il ponte superiore sancia era china sulla murata con le labbra rosse socchiuse e gli occhi scuri accesi di interesse alle sue spalle il sole ne sottolineava la figura flessuosa sotto la tunica trasparente in controluce poi addosso a lei cadde l'ombra accigliata di zaporavo che le allungò pesantemente una mano sulla spalla in segno di possesso c'era minaccia e avvertimento nell'occhiata che il capitano lanciò all'uomo sulla tolda conan sogghignò in risposta come per una battuta che solo lui conosceva zaporavo commise l'errore che tanti capi assoluti hanno fatto da solo nella sinistra grandiosità della cabina propiera sottovaluto all'uomo che stava sulla tolda aveva avuto l'opportunità di uccidere conan e se l'era lasciata scappare troppo occupato nelle sue fosche meditazioni non gli riusciva facile pensare che qualcuno dei cani sotto i suoi piedi costituisse una minaccia e per tanto tempo era stato più in alto e aveva schiacciato tanti nemici che inconsciamente si riteneva al di sopra delle macchinazioni di rivali a lui inferiori di grado conan d'altra parte non lo provocò si mescolò alla ciurma vivendo e divertendosi come gli altri si dimostrò un abile marinaio e senz'altro il più robusto che chiunque altro avesse mai visto faceva il lavoro di tre uomini ed era sempre il primo ad assumersi i compiti più faticosi e pericolosi i suoi compagni cominciarono ad avere fiducia in lui non litigava con loro e loro stavano attenti a non litigare con lui giocò con loro mettendo come posta la cintura e il fodero vinse loro il denaro e le armi e restituì tutto con una risata la ciurma lo considerava istintivamente come il capo degli alloggiamenti non si degnò di dare nessuna informazione sui motivi che l'avevano costretto a fuggire dalle isole baraca ma il fatto che fosse capace di azioni tanto sanguinose da causarne l'esilio da quei posti selvaggi aumentò il rispetto che questi fieri corsari avevano nei suoi confronti verso zaporavo e i secondi era impeccabilmente cortese mai insolente o servile anche il più stupido rimase colpito dal contrasto fra il rude taciturno e triste capitano e il pirata sempre pronto a ridere di gusto a cantare a gran voce canzonette oscene in una dozzina di lingue a bere birra scura come un ubriacone e a quanto pareva senza mai pensare al domani se zaporavo avesse saputo che veniva confrontato anche se inconsciamente con un uomo che era un semplice marinaio sarebbe rimasto senza parole per lo stupore e la meraviglia ma egli era tutto preso dalle sue elucubrazioni che erano diventate più tenebrose e sinistre col passare degli anni e con i suoi vaghi sogni di grandezza e con la ragazza il cui possesso era un piacere amaro proprio come tutti i piaceri e la ragazza guardava sempre più spesso il gigante dalla chioma nera che torreggiava fra i suoi compagni nel lavoro e nelle ore libere lui non le rivolse mai la parola ma non c'era possibilità d'errore nella franchezza del suo sguardo lei non l'aveva frainteso e si chiedeva se avrebbe avuto il coraggio di portare avanti il gioco pericoloso di continuare a incoraggiarlo non era molto il tempo che la separava dai palazzi della coldava ma era come se un mondo di cambiamenti la separasse dalla vita vissuta prima che zaporavo la strappasse urlante dalla caravella in fiamme che i lupi dello zingariano avevano saccheggiato lei che era stata la figlia viziata e coccolata del duca della coldava aveva imparato cosa significasse essere il trastullo di un pirata e poiché era abbastanza flessibile da piegarsi senza spezzarsi era vissuta dove altre donne erano morte e poiché era giovane e piena di voglia di vivere era anche arrivata a trarre piacere da quell'esistenza la vita era incerta come in un sogno con acuti contrasti di battaglie saccheggi assassini e fughe e le visioni di zaporavo la rendevano ancora più incerta della media dei corsari nessuno sapeva cosa il capitano avesse in mente per il giorno dopo ora si erano lasciate alle spalle tutte le coste cartografate e si spingevano sempre più avanti in quella distesa sconosciuta piena di marosi che di solito i marinai fuggivano nella quale dall'inizio del tempo le navi si erano avventurate soltanto per svanire per sempre dalla vista dell'uomo alle loro spalle c'erano tutte le terre conosciute e giorno dopo giorno l'immensità azzurra ondeggiante si stendeva vuota davanti ai loro occhi non c'era bottino niente città da saccheggiare niente navi da bruciare gli uomini mormoravano anche se facevano in modo che loro brontolì non giungessero agli orecchi del loro implacabile signore che passeggiava avanti e indietro sulla poppa giorno e notte con sinistra imponenza o stava chino su antiche carte mappe ingiallite dal tempo leggendo tomica erano masse semi sbriciolate di pergamena rosicchiata dai tarli di tanto in tanto zaporavo parlava con sancia pazzescamente secondo la ragazza di continenti perduti e isole favolose insospettatamente appisolate in mezzo alla spuma azzurrina di golfi senza nome dove draghi cornuti sorvegliavano tesori ammassati da re preumani molto e molto tempo addietro sancia ascoltava senza capire tenendo le mani attorno alle ginocchia sottili con i pensieri che si allontanavano costantemente dalle parole del suo sinistro compagno per andare sempre al gigante dal corpo abbronzato la cui risata era franca e spontanea come il vento del mare così dopo parecchie settimane di noia avvistarono terra occidente all'alba gettarono l'ancora in una baia angusta e videro una spiaggia che come un nastro candido gingeva una distesa di pendii erbosi mascherati da alberi verdeggianti il vento portò un profumo di vegetazione di spezie sancia si strinse le mani con gioia all'idea di avventurarsi arriva ma la gioia si mutò in malumore quando zaporavo le ordinò di rimanere a bordo finché non l'avesse mandata a chiamare non le dava mai spiegazioni degli ordini quindi lei non ne conosceva mai il motivo a meno che esso non fosse rappresentato dal demone nascosto in lui che lo spingeva a tormentarla di frequente senza ragione per cui sancia se ne rimase sdraiata di cattivo umore sul castello di poppa a osservare gli uomini che remavano verso riva nelle acque calmissime scintillanti come giada liquida alla luce del primo sole li vedeva formare un mucchio sulla sabbia sospettosi con le armi pronte mentre alcuni si sparpagliavano sotto gli alberi che frastagliavano la spiaggia fra questi ultimi notò c'era conan quella figura alta e abbronzata col suo passo elastico era inconfondibile gli uomini dicevano che non fosse affatto un uomo civile ma un cimmero appartenente a una di quelle tribù barbare che vivono sulle sinistre montagne del lontano settentrione e le cui incursioni terrorizzavano i loro vicini meridionali in ogni caso si rendeva conto che in lui c'era qualcosa una sorta di super vitalità o di barbarie che lo differenziava dai suoi fieri compagni sulla spiaggia echeggiarono delle voci quando il silenzio circostante rassicurò i bucanieri il mucchio si frazionò sparpagliandosi lungo la riva in cerca di cibo sancia vide i marinai arrampicarsi sugli alberi e raccoglierne i frutti e provò il desiderio di assaggiarli batte il piedino per terra e imprecò con l'abilità acquisita a furia di stare insieme con quella gente blasfema gli uomini sulla riva dopo aver raccolto i frutti si stavano abbuffando trovando particolarmente saporita una varietà sconosciuta dalla buccia dorata ma zaporavo non cercò e ne assaggiò frutto gli esploratori non avevano scoperto nulla che indicasse la presenza di uomini o animali nelle vicinanze egli se ne stette a guardare verso l'entroterra e verso la distesa di collinette erbose che si confondevano l'una con l'altra poi con una breve frase si aggiustò il cinturone e avanzò da solo sotto gli alberi il secondo lo avvertì del pericolo di andare là da solo e come ricompensa si beccò un pugno sul muso zaporavo aveva i suoi motivi per voler andare da solo voleva sapere se quell'isola era proprio quella citata nel misterioso libro di schelos quella in cui come sostengono innominabili saggi strani mostri sorvegliano cripte piene di oro scolpito a geroglifici e non voleva per sinistri motivi noti a lui solo dividere la sua conoscenza se era vera con nessun altro e men che meno col suo equipaggio sancia osservando impaziente dalla poppa lo vide sparire nell'intrico di verzura e poi scorse conan che si voltava e si guardava attorno lanciava una rapida occhiata agli uomini sparpagliati lungo la spiaggia e si muoveva veloce nella direzione presa da zaporavo svanendo anche egli fra gli alberi la curiosità di sancia si era risvegliata la ragazza aspettò che i due riapparissero senza risultato i marinai continuavano muoversi senza uno scopo preciso su e giù per la spiaggia e alcuni si erano avventurati nell'interno parecchi si erano stesi sulla sabbia per dormire il tempo passava e lei si muoveva in costante agitazione il sole cominciò a battere più caldo nonostante il baldacchino sulla poppa faceva caldo nessuno parlava e il tempo passava terribilmente monotono ma poche braccia più in là oltre una cintura di acque azzurre il mistero fresco e ombroso della spiaggia frangiata ad alberi e della pianura punteggiata di boschi la attirava e in più era tentata dal mistero riguardante zaporavo e conan sapeva bene la punizione che toccava a chi disobbediva allo spietato padrone e se ne rimase seduta per qualche tempo tormentata dall'indecisione alla fine concluse che sottrarsi al proprio dovere valeva anche una delle frustate di zaporavo e senza ulteriori ripensamenti scalciò via i leggeri sandali di cuoio scivolò fuori dalla tunica e rimase sul ponte nuda come un lombrico arrampicatasi su per la murata e giù per le catene si lasciò scivolare in acqua e nuotò fino a riva rimase qualche istante sulla spiaggia rabbrividendo mentre la sabbia le solletticava i piedi cercando la ciurma vide solo pochi uomini a qualche distanza qua e là sulla spiaggia parecchi erano profondamente addormentati sotto gli alberi e tenevano ancora in mano i pezzi di quei frutti dorati si chiese come mai dormissero tanto profondamente in pieno giorno ma nessuno la chiamò quando attraversò la cintura sabbiosa e avanzò nell'ombra del bosco gli alberi crescevano gruppetti irregolari e oltre quei cespugli si stendevano distese collinose di pendii simili a prati mentre progrediva verso l'interno nella direzione presa da zaporavo fu colpita dai panorami verdeggianti che si svolgevano gentilmente davanti a lei pendio dopo pendio tappezzati di zone verdi e punteggiati di boschetti fra le collinette c'erano comodi declivi anch'essi coperti di zone verdi lo scenario sembrava fondersi in se stesso ogni scena in quella successiva la vista era singolare ampia e ristretta nello stesso tempo su ogni cosa si stendeva un silenzio di sogno come un incantesimo ma all'improvviso si trovò sulla sommità di una collinetta circondata da alberi alti e la sensazione fatata di sogno svanì di colpo alla vista di ciò che giaceva sull'erba calpestata e arrossata e sancia gridò senza volerlo e si ritrasse e poi avanzò furtivamente con gli occhi spalancati tremando come una foglia zaporavo giaceva sulle zolle erbose guardando senza vedere verso l'alto con un'ampia ferita nel petto la spada giaceva vicino alla mano inerte l'avvoltoio aveva fatto la sua ultima picchiata non si può dire che sancia guardasse il cadavere del suo padrone senza sentirsi commossa non aveva motivo per amarlo ma se non altro provava la sensazione di ogni ragazza che guarda il corpo dell'uomo che per primo la posseduta non pianse e ne avvertì nessuna necessità di piangere ma fu afferrata da un tremito convulso le sembrò che il sangue le si congelasse per un attimo e si oppose a un'ondata di panico si guardò attorno per cercare l'uomo che si aspettava di vedere i suoi occhi invece incontrarono solo il cerchio d'alberi e i pendì azzurrini più oltre non poteva darsi che l'uccisore del corsaro si fosse trascinato lontano forse mortalmente ferito ma non c'erano tracce di sangue che si allontanassero dal cadavere in curiosità sancia esaminò gli alberi che la circondavano sobbalzando quando sentì il fruscio delle foglie di smeraldo che non sembrava dovuto al vento avanzò verso gli alberi osservando le profondità fronzute conan chiamò con tono interrogativo la voce suono strana e debole nella distesa di silenzio diventato improvvisamente teso cominciarono a tremarle le ginocchia mentre veniva assalita da un indicibile panico conan sono io sancia dove sei conan ti prego ma la voce le morì gli occhi le si dilatarono in un orrore incredulo le labbra si aprirono per lasciare uscire un grido inarticolato la paralisi le attanagliò il corpo pur avendo un bisogno disperato di fuggire velocemente non poteva muoversi poteva solo urlare senza parole due conan quando vide zaporavo inoltrarsi nei boschi da solo capì che gli si è rappresentata l'opportunità che aveva atteso non aveva mangiato nessun frutto e non si era mischiato ai giochi rumorosi degli altri aveva concentrato tutte le sue facoltà nel tenere sotto controllo il capo dei bucanieri i marinai abituati alle maniere del loro capo non furono particolarmente sorpresi che volesse esplorare da solo un'isola sconosciuta e probabilmente ostile continuarono a dedicarsi ai loro passatempi e non notarono conan che scivolava cautamente come una pantera dietro il capitano conan non sottovalutava il suo ascendente sulla ciurma ma non aveva acquisito il diritto per mezzo di battaglie scorrerie di sfidare il capitano duello all'ultimo sangue in quei mari deserti non aveva avuto l'opportunità di misurarsi con lui secondo le leggi della pirateria e la ciurma gli si sarebbe schierata decisamente contro se avesse attaccato apertamente il capo ma sapeva che se avesse ucciso zaporavo senza che i marinai lo sapessero gli uomini privi di capitano non si sarebbero sentiti legati da lealtà verso un morto in un branco di lupi come quello solo i vivi avevano valore così conan seguì zaporavo con la spada in mano e l'impazienza nel cuore fin quando sbucò sulla cima di una montagnola circondata da alti alberi fra un tronco e l'altro poteva vedere le distese verdi delle pianure confondersi nella distanza azzurrina nel centro della radura zaporavo accortosi di essere seguito si voltò con la mano sull'elsa e il bucaniere imprecò er che mi stai seguendo bastardo sei forse diventato pazzo per chiedermelo rise conan avvicinandosi rapidamente al vecchio capitano le sue labbra sorridevano e gli occhi brillavano di un lampo selvaggio zaporavo estrasse la spada con una maledizione tenebrosa e l'acciaio risuonò contro l'acciaio mentre il cimmero si lanciava avanti all'impazzata con la spada che descriveva un vortice di lampi azzurrini sul suo capo zaporavo aveva combattuto migliaia di battaglie sul mare e sulla terraferma non c'era al mondo uomo più esperto e più versato di lui nell'arte della scherma ma non si era mai trovato contro una lama maneggiata da muscoli cresciuti nelle terre selvagge oltre le frontiere della civiltà a pareggiare la sua abilità c'erano una velocità impossibile da seguire con l'occhio e una potenza non raggiungibile da un uomo civile il modo di combattere di conan non era ortodosso ma istintivo e naturale come quello di un lupo delle foreste le sottigliezze della scherma erano inutili contro la sua furia di primitivo come l'abilità di un pugile contro gli assalti di una pantera lottando come non aveva mai fatto prima spremendosi fino all'ultima goccia nello sforzo di parare la lama che lampeggiava come un fulmine sopra di lui zaporavo con la forza della disperazione si oppose con l'elsa a un colpo furibondo e sentì che tutto il braccio gli si intorpidiva per la potenza terribile dell'urto il colpo fu immediatamente seguito da un affondo sferrato con forza tale che la punta penetrò attraverso la maglia d'acciaio e anche la carne come se fossero state solo carta e la spada trafissa il cuore del capitano zaporavo contorse le labbra in una breve smorfia di agonia ma taciturno fino all'ultimo non emise un gemito era già morto prima che il corpo si abbandonasse sull'erba calpestata dove le gocce di sanque scintillarono al sole come manciate di rubini disseminati qua e là conan scosse le gocce rossastre dalla spada sogghignò senza emozione e si stiracchiò come un felino gigantesco e si irrigidì di scatto mentre l'espressione di soddisfazione si tramutava in stupore rimase fermo come una statua con la spada che gli penzolava dalla mano sollevando gli occhi dal nemico ormai morto e guardando con aria assente gli alberi che lo circondavano e il panorama più lontano aveva visto o creduto di vedere una cosa fantastica una cosa incredibile e inesplicabile sulla sommità dolce arrotondata di una collinetta lontana c'era una figura alta e nera nuda che correva a lunghi balzi portando in spalla un corpo bianco egualmente nudo l'apparizione svanì improvvisamente come si era manifestata lasciandolo a bocca aperta per lo stupore il cimero si guardò attorno lanciò un'occhiata incerta alla direzione della quale era venuto e imprecò era molto perplesso e un po turbato ammesso che un termine del genere si possa applicare a una persona dai nervi d'acciaio come lui in quell'ambiente reale anche se esotico si era introdotta un'immagine passeggera di fantasia e di incubo conan non dubitava delle proprie facoltà visive e neanche di quelle mentali però sapeva di aver visto qualcosa di alieno e terribile una semplice figura nera che correva all'orizzonte portandosi un prigioniero bianco e che era abbastanza bizzarra ma per di più quella figura nera era innaturalmente alta scuotendo dubbioso il capo conan si lanciò nella direzione che aveva visto prendere a quell'essere non si chiese se la mossa era saggia ormai punto dalla curiosità non aveva altra scelta che seguirne il suggerimento superò collina dopo collina ognuna con le sue zone uniformi e i suoi boschetti intricati complessivamente il percorso era tutto in ascesa anche se saliva e scendeva i pendii con monotona regolarità lo spiegamento di montagnola ed eclivi era stupefacente e in apparenza illimitato ma alla fine avanzò su per quella che pensava fosse la parte più alta dell'isola e si fermò alla vista di mura e torri di un verde rilucente che finché non ebbe raggiunto il punto in cui si ergevano si erano confuse così perfettamente con il panorama di verzura da risultare invisibili perfino al suo occhio acuto esitò palpeggiando la spada poi andò avanti morso dal tarlo della curiosità si avvicinò a un alto portale del muro circolare nel quale c'era un'apertura ma senza vedere nessuno scrutando cautamente all'interno vide quello che sembrava un ampio cortile aperto tappezzato d'erba circondato da un muro circolare di quella stessa sostanza verdastra semitrasparente con cui erano state costruite le mura vi erano parecchie arcate che si aprivano nel muro conan avanzò in punta di piedi con la spada pronta scelse a caso un'arcata e si trovò in un cortile simile al primo al di sopra del muro interno vide i pinnacoli stranamente sagomati di costruzioni a torre una di queste torri era costruita all'interno del cortile nel quale egli stesso si trovava ed era circondata da un'ampia scalinata che costeggiava il muro avanzò su per i gradini chiedendosi se fosse tutto reale o se invece non si fosse perso in mezzo ai sogni provocati dal loto nero in cima alla scalinata si trovò su un pianerottolo circondato da mura o forse un balcone non era sicuro ora poteva vedere maggiori dettagli nelle torri ma per lui erano sempre privi di significato comprese a disagio che quelle costruzioni non potevano essere opera di normali esseri umani c'era una certa simmetria nelle strutture nel complesso ma era una simmetria folle un complesso alieno alla normalità umana in quanto alla pianta dell'intera cittadella o castello o qualsiasi cosa fosse riusciva a vedere quel tanto che era sufficiente a suggerire una grande quantità di cortili per la maggior parte circolari ciascuno circondato da un suo muro e collegato agli altri da arcate aperte e tutti apparentemente raggruppati attorno al grappolo delle fantastiche torri centrali voltandosi in direzione opposta a quelle delle torri si sentì gelare il sangue e si acquattò rapidissimo dietro il muretto della balconata spiando pieno di meraviglia la terrazza o balcone che fosse era più alta del muro opposto il cimbero si trovò a guardare oltre quel muro in un altro cortile erboso la curva interna del muro più lontano di quest'ultimo cortile differiva dagli altri che aveva visto perché invece di essere liscia sembrava percorsa da lunghi ripiani o mensole affollate di piccoli oggetti la cui natura non riusciva a determinare tuttavia prestò poca attenzione al muro almeno sul momento teneva tutti i sensi concentrati sul gruppo di esseri acquattati attorno a uno strano stagno verde in mezzo al cortile quegli esseri erano neri e nudi fatti come uomini ma il più basso di essi in piedi avrebbe superato di tutta la spalla il più alto dei pirati erano longi linei anziché massicci ma ben proporzionati senza nessun sospetto di deformità o di anormalità eccettuata la statura fuori del comune ma anche a quella distanza conan riusciva a cogliere l'innata malignità dei loro lineamenti in mezzo a loro nudo e piegato in due c'era un ragazzo che conan riconobbe come il più giovane marinaio del rifiuto era lui quindi il prigioniero che aveva visto trasportare su per le collinette erbose conan non aveva udito rumori di lotta e non c'erano macchie di sangue o ferite sulle membra lucide ed ebano dei giganti evidentemente il marinaio aveva vagato verso l'entroterra lontano dai suoi compagni ed era stato abbattuto da un nero in un'imboscata mentalmente il cimero si riferiva a quelle creature come neri per mancanza di un termine migliore istintivamente però sapeva che quegli esseri non erano uomini normalmente abitanti del sud nel senso che si dà di questo termine nessun suono arrivava fino a lui i neri gesticolavano col capo e con le mani l'un l'altro ma non sembrava che parlassero almeno con le labbra uno accosciato sulle ginocchia davanti al corpo prostrato del ragazzo reggeva in mano un qualcosa di simile a un flauto si portò lo strumento alle labbra e sembrò soffiarvi dentro ma conan non udì alcun suono ma il giovane zingariano sentì o intuì qualcosa perché si rattrappì ancora di più tremava e si contorceva come in agonia nelle contorsioni delle membra c'era una certa regolarità che ben presto divenne ritmica le contorsioni divennero movimenti violenti e i movimenti violenti si fecero regolari il giovane incominciò a danzare come i cobra danzano al suono di un flauto del fachiro nella danza non c'era nessuna traccia di interesse o di gioioso abbandono o meglio l'abbandono c'era ed era terribile a vedersi ma niente affatto gioioso era come se la silenziosa melodia del flauto afferrasse lo spirito più profondo del giovane con dita sottili e spremesse da esso sotto una brutale tortura ogni involontaria espressione di passioni recondite era una convulsione di oscenità uno spasimo di lascivia un'essudazione di segreti appetiti in una cornice di costrizione desiderio senza piacere pena terribilmente accoppiata al desiderio era come guardare un'anima messa a nudo con tutti i suoi segreti tenebrosi e innominabili lasciati in bella vista conan stava osservare agghiacciato dal ribrezzo e scosso dalla nausea pur essendo fondamentalmente puro come un lupo delle selve non era però all'oscuro dei perversi segreti delle civiltà corrotte aveva vagabondato per le città della zamora e aveva conosciuto le donne di shadisar detta la città degli scandali ma avvertiva in quella scena un'abiezione cosmica che trascendeva la pura e semplice degenerazione umana un ramo perverso dell'albero della vita sviluppatosi lungoline al di là della comprensione umana non è rascosso dalle contorsioni d'agonia e dalla posa del giovane ma dall'oscenita cosmica di quegli esseri che potevano portare di forza alla luce gli abissali segreti che dormono nelle insondabili profondità dell'animo umano e trovare piacere nell'ostentazione sfrontata di cose che non dovrebbero nemmeno essere accennate neanche negli incubi più inquietanti all'improvviso il torturatore dei neri depose il flauto e si alzò torreggiando al di sopra della figura contorta afferrò brutalmente il giovane per il collo e per i fianchi lo sollevò in aria e lo cacciò a capofitto nello stagno verdastro conan vide lo scintillio biancastro del corpo nudo fra le acque verdi mentre il nero continuava a tenere il prigioniero sott'acqua fra gli altri neri c'era un movimento irrequieto e conan si chinò bruscamente sotto il muretto della terrazza non osando sporgere la testa per paura di essere visto dopo un po' vinto dalla curiosità tornò cautamente a osservare i neri uno dopo l'altro stavano passando in un altro cortile attraverso una delle arcate uno di essi stava proprio in quel momento sistemando qualcosa sullo stretto ripiano del muro più lontano e conan notò che era proprio il nero che aveva torturato il giovane marinaio era più alto degli altri e portava in testo una fascia ad orna di pietre preziose del ragazzo zingariano non c'era traccia il nero gigantesco seguì gli altri e conan li vide emergere tutti insieme dall'arcata per la quale egli stesso era entrato in quel castello d'orrore e poi allontanarsi per le collinette erbose nella direzione dalla quale egli era venuto non avevano armi eppure sentiva che stavano tramando un'altra aggressione ai danni dei corsari però prima di andare ad avvertire i marinai ignari voleva cercare di scoprire qual era stato il destino del giovane nessun suono turbava la quiete era sicuro che in tutti i cortili e le torri non ci fosse nessuno tranne lui scese rapidamente la scalinata attraversò il cortile e passò attraverso un'arcata nel cortile che i neri avevano appena lasciato ora poteva osservare la natura del muro striato il muro era ricoperto da strecchi ripiani apparentemente intagliati nella solida roccia e allineate su quei ripiani quasi degli scaffali c'erano migliaia di figurine per la maggior parte di colore grigiastro quelle figurine non più grandi di una mano rappresentavano uomini ed erano così fatte bene che il cimbero riconobbe in ognuna di esse caratteristiche razziali differenti i connotati tipici degli zingariani degli argosiani oferi corsari cusciti le riproduzioni di quest'ultimi erano di colore nero proprio come i loro modelli erano neri in realtà conan avvertiva un vago senso di turbamento mentre osservava quelle figure silenziose cieche c'era in esse una mimesi della realtà in qualche modo impressionante le toccò cautamente ma non riuscì a stabilire di che materiale fossero fatte al tatto sembravano ad osso pietrificato ma non riusciva a immaginare una sostanza del genere disponibile sull'isola in quantità così grande da poter essere usata senza risparmio notò che le figurine rappresentanti tipi che gli erano più familiari erano tutte sugli scaffali più alti i ripiani più bassi erano occupati da statuette i cui tratti somatici gli risultavano estranei o davano soltanto forma all'immaginazione dell'artista o raffiguravano tipi razziali svaniti e dimenticati da tempo scuotendo la testa con impazienza conan si voltò verso lo stagno il cortile circolare non offriva nascondigli e poiché il corpo del ragazzo non si vedeva da nessuna parte doveva per forza trovarsi in fondo allo stagno si avvicinò al placido disco verdastro e guardò nella superficie scintillante era come guardare in uno spesso specchio verde limpido eppure stranamente ingannevole lo stagno di non grandi dimensioni era rotondo come un pozzo ed era circondato da un bordo di giada verde guardandovi dentro riusciva a scorgere il fondo circolare quanto al di sotto della superficie non aveva modo di stabilirlo ma lo stagno sembrava incredibilmente profondo quasi come se stesse guardando in un abisso era perplesso perché riusciva a vederne il fondo ma esso gli stava sotto gli occhi incredibilmente lontano illusorio indistinto eppure visibile un paio di volte credette che una debole luminescenza apparisse nelle profondità color di giada ma non ne fu mai sicuro eppure era certo che lo stagno fosse vuoto tranne che per l'acqua scintillante e allora per crom dove diavolo era il corpo del ragazzo che aveva visto annegare brutalmente nello stagno rialzandosi conan palpeggiò la spada e fece di nuovo scorrere lo sguardo per il cortile i suoi occhi si fissarono su un punto in uno degli scaffali più alti proprio lì aveva visto il nero altissimo mettere qualcosa gocce di sudore gelido gli corsero improvvisamente lungo la pelle abbronzata con esitazione come attratto da una calamita il cimero si avvicinò al muro che risplendeva debolmente agghiacciato da un sospetto troppo mostruoso per essere preso in considerazione guardò l'ultima figurina sullo scaffale una terribile familiarità fu subito evidente di pietra immobile ridottissimo eppure inconfondibile il ragazzo zingariano gli restituì lo sguardo conan indietreggiò scosso fino in fondo all'anima la spada gli pendeva nella mano semi paralizzata mentre guardava bocca aperta colpito dalla constatazione di una cosa che era troppo insondabile terribile per essere compresa e tuttavia il fatto era inequivocabile il segreto delle statuine di formato ridotto era svelato anche se dietro quel segreto c'era quello più tenebroso e più impenetrabile della loro esistenza 3 Conan non seppe mai quanto tempo restò immerso in pensieri confusi fu scosso da una voce femminile che urlava sempre più forte come se la donna che gridava venisse trascinata sempre più vicino Conan riconobbe la voce e la sua paralisi svanì all'istante con un rapido salto balzò sugli scaffali più alti scalciando via un mucchietto di statuine per far posto ai piedi con un altro balzo e una scalata arrivò ad appendersi al bordo del muro guardando al di là era uno dei muri esterni per cui si trovò a guardare nei prati verdeggianti che circondavano il castello un nero gigantesco avanzava sulla spianata erbosa trasportando sotto il braccio una prigioniera urlante come un uomo porterebbe di peso un ragazzino ribelle la prigioniera era sancia con la chioma nera che ricadeva in onde scomposte e la pelle olivastra che contrastava contro l'evano lucido del nero che la teneva prigioniera l'essere non prestava attenzione alle sue grida e al suo dimenarsi attraversò l'arcata che dava all'esterno mentre svaniva all'interno Conan balzò temerariamente giù dal muro e scivolò nell'arcata che si apriva sul cortile successivo si acquattò e vide il gigante entrare nel cortile dello stagno portando la prigioniera ora riusciva a vederne chiaramente ai particolari la superba simmetria del corpo e delle membra erano ancora più evidenti da vicino sotto la pelle color dell'ebano guizzavano muscoli arrotondati e il cimaro non dubitò che quel mostro potesse squartare a mani nude un uomo comune le unghie delle dita costituivano un'altra arma perché erano allungate come artigli di un animale selvatico gli occhi erano giallastri di un vibrante color oro che brillava e riluceva il volto era una maschera debano scolpito ma era anche inumano ogni dettaglio ogni lineamento recava il marchio del male un male che trascendeva il semplice male dell'umanità l'essere non era umano non poteva esserlo era un prodotto vivente degli abissi della creazione blasfema una perversione dello sviluppo evolutivo lasciata cadere sancia sul terreno erboso dove la ragazza rimase prona gridando di paura e di dolore il gigante gettò un'occhiata attorno incerto e i suoi occhi giallastri si restrinsero quando si posarono sulle statuette rovesciate a terra alla base del muro poi si chinò afferrò la prigioniera per il colle per le gambe e avanzò deciso verso lo stagno verdastro allora conan scivolò dall'arcata e corse come un vento di morte per il cortile il gigante girò su se stesso e gli occhi gli fiammeggiarono quando vide il bronzeo vendicatore correre verso di lui in quell'istante di sorpresa la stretta crudele si rilassò e sancia si divincolò dalle sue braccia cadendo per terra le mani artigliate si allargarono e si strinsero ma conan si chinò fuori dalla loro portata e infilò la spada nel linguine del nero l'essere cadde come un albero abbattuto sprizzando sangue e l'attimo successivo conan fu stretto in un abbraccio frenetico da sancia che gli gettò le braccia al collo in una frenesia di terrore di sollievo isterico il cimbero lanciò un'imprecazione mentre si liberava ma il nemico era già morto gli occhi giallastri erano vitrei le lunghe membra debano avevano cessato di muoversi oh conan cosa sarà di noi chi sono questi mostri questo è certo l'inferno e quello là era il diavolo allora l'inferno ha bisogno di un nuovo diavolo ma come ha fatto a prenderti sancia si sono impadroniti della nave non lo so sono venuta arriva ti ho visto seguire zaporavo e mi sono venuta dietro ho trovato zaporavo sei sei stato tu che l'hai e chi altri e poi ho visto un movimento fra gli alberi ho pensato che fossi tu ho dato una voce e ho visto quella e quella cosa nera acquattata come una scimmia fra gli alberi che mi stavo osservando era come un incubo non riuscivo nemmeno a scappare tutto quello che riuscivo a fare era gridare poi si è lasciato cadere dall'albero e mi ha afferrata ahimè sancia si nascose il viso fra le mani nuovamente scossa dal ricordo di quel terribile momento bene dobbiamo pensare ad andarcene di qui sancia andiamo dobbiamo raggiungere i marinai la maggior parte era addormentata fra gli alberi quando sono entrata nel bosco addormentata per i sette demoni del fuoco e della dannazione infernale che ascolta l'ho sentito un grido lamentoso aspettami qui sancia conan balzò di nuovo sui ripiani guardando oltre il muro e imprecò con una furia concentrata che fece boccheggiare persino sancia i neri stavano tornando ma non da soli né a mani vuote ciascuno portava una forma umana inerte alcuni addirittura due i prigionieri erano i corsari che pendevano inerti dalle braccia dei cacciatori e sembravano morti salvo qualche occasionale movimento erano stati disarmati ma non spogliati uno dei neri portava le loro spade ancora nel fodero in una grande bracciata di acciaio puntuto di tanto in tanto uno dei marinai mandava un debole gemito come un ubriaco che si lamenta nel sonno conan si guardò attorno come un lupo in trappola tre arcate portavano fuori dal cortile dello stagno dall'arco orientale i neri avevano lasciato il cortile e da là sarebbero presumibilmente tornati egli era entrato dall'arco posto meridione nell'arco occidentale si era nascosto e non aveva avuto il tempo di guardare cosa ci fosse dopo senza badare alla sua ignoranza della pianta del castello era costretto a prendere subito una decisione saltò giù dal muro rimisa posto le statuette in fretta e furia trascinò il cadavere della vittima vicino allo stagno e ve lo gettò dentro il corpo sprofondò subito e mentre guardava vide distintamente una spaventosa contrazione il corpo si restringeva si induriva conan si voltò in fretta rabbrividendo prese il braccio della ragazza e la condusse rapido verso l'arcata meridionale mentre lei lo supplicava di dirle cosa stava succedendo hanno impacchettato l'equipaggio non ho un piano preciso ma ci nasconderemo da qualche parte staremo a vedere se non guardano nello stagno possono anche non sospettare la nostra presenza ma vedranno il sangue sull'erba conan forse penseranno che l'ha versato uno di loro in ogni caso dobbiamo correre il rischio si trovavano nel cortile dal quale il cimaro aveva assistito alla tortura del ragazzo conan condusse sancia su per la scalinata che saliva lungo il muro meridionale e la costrinse a coricarsi dietro la balaustra della terrazza era un misero nascondiglio ma il migliore che potessero trovare si erano appena sistemati quando i neri entrarono nel cortile ci fu un rumore sonoro ai piedi della scalinata e conan sobbalzò afferrando la spada ma i neri passarono attraverso un'arcata nel muro sud occidentale e i due udirono una serie di tonfi e di gruniti i giganti gettavano a terra le vittime uno scoppio di risa esteriche salì alle labbra di sancia ma conan fu svelto a tapparle la bocca con la mano smorzando il rumore prima che potesse tradire la loro presenza dopo un po udirono il trapestio di parecchi piedi sul terreno erboso poi regnò il silenzio conan sbirciò da sopra il muro il cortile era vuoto i neri si erano riuniti ancora una volta attorno allo stagno nel cortile vicino seduti sui talloni non sembravano prestare grande attenzione alle evidenti macchie di sangue sull'erba ai bordi dello stagno evidentemente macchie del genere non erano insolite non guardarono neanche nell'acqua erano intenti a tenere una specie di conclave il nero gigantesco suonava di nuovo il flauto dorato mentre i compagni lo stavano ad ascoltare come stato ed evano conan prese sancia per mano e scivolò giù per la scala tenendosi piegato in modo che la testa non fosse visibile al di sopra del muretto la ragazza lo seguì per forza piegate in due lanciando occhiata impaurita all'arcata che portava nel cortile dello stagno attraverso la quale però non erano visibili da quell'angolazione né lo stagno né il sinistro gruppetto ai piedi della scalinata c'erano le spade degli zingarani il frastuono che avevano udito era stato provocato dalle armi gettate per terra conan condusse sancia oltre l'arcata sud occidentale attraverso il prato fino nel cortile successivo in quest'ultimo c'erano i corsari abbandonati per terra in mucchi disordinati con i baffi irti e gli orecchini luccicanti qua e là qualcuno si muoveva o si lamentava agitato conan si chinò su di loro e sancia si inginocchiò accanto lui piegandosi in avanti con le mani sui fianchi che cos'è quest'odore dolce nauseante lo si avverte nell'alito di tutti è quel maledetto frutto che stavano mangiando mi ricordo l'odore che aveva deve essere qualcosa di simile all'otto nero che fa dormire gli uomini per crom cominciano a svegliarsi ma sono disarmati e io ho idea che quei diavoli neri non aspetteranno a lungo prima di cominciare a usarli per le loro magie che possibilità avranno questi poveri idioti disarmati e stupiditi dal sonno per un attimo rimase pensieroso aggrottando la fronte mentre faceva lavorare il cervello poi afferrò la spalla olivastra di sancia in una stretta che le provocò una smorfia sta bene attenta mi tirerò dietro quei porci di neri in un'altra parte del castello e li terrò occupati per un po nel frattempo tu sveglia questa banda di pazzi e dagli le spade c'è una possibilità di combattere e la senti sancia io 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 non lo so con un'imprecazione conan le afferrò le spesse trecce vicino alla nuca e la scosse finché i muri cominciarono a danzare sotto lo sguardo stralunato della ragazza devi farlo è la nostra unica possibilità farò del mio meglio con un grugnito di raccomandazione di incoraggiamento il cimmaro le batte una pacca sulla schiena e quasi la buttò a terra e poi scivolò via qualche attimo dopo era già acquattato nell'arcata che dava sul cortile dello stagno osservando il suo nemico i neri erano seduti attorno allo stagno ma cominciavano a mostrare i segni di un'impazienza demoniaca dal cortile dove giacevano i corsari provenivano gemiti sempre più alti misti a qualche imprecazione incoerente il cimmaro tese i muscoli e si raccolse come una pantera respirando con disinvoltura fra i denti il gigante ingioiellato si alzò togliendosi il flauto dalle labbra e in quell'istante conan con un balzo da tigre era già in mezzo ai neri sbalorditi e come una tigre balza e colpisce la preda così conan balzò i colpi per tre volte la sua spada lampeggiò prima che qualcuno potesse alzare una mano per difendersi poi il cimmaro balzò via da mezzo ai neri e si lanciò di corsa sul terreno erboso alle sue spalle giacevano tre corpi dei neri col cranio spaccato in due pur colti di sorpresa da quella furia insospettata gli altri giganti si ripresero subito mentre il cimmaro oltrepassava l'arcato occidentale gli erano già le calcagna con le gambe lunghe che spazzavano il terreno erboso a velocità folle conan era fiducioso nella propria abilità di lasciarsi alle spalle a piacimento ma il suo scopo non era distanziarli intendeva trascinarli in una lunga caccia per dar tempo a sancia di svegliare gli zingarani e ridare loro le armi ma mentre si precipitava nel cortile oltre l'arcato occidentale lanciò un'imprecazione era un cortile differente dagli altri che aveva visto anziché essere rotondo era ottagonale e l'arcata dalla quale era entrato era l'unico ingresso voltandosi vide che l'intera banda l'aveva seguito nel cortile un gruppetto era ammassato nell'arcata e gli altri si erano sparpagliati in una lunga linea e si stavano avvicinando conan l'infronteggiò indietreggiando lentamente verso il muro settentrionale la fila si curvò in un semicerchio e si allargò per circondarlo il cimbero continuò a muoversi all'indietro ma sempre più piano osservando gli spazi che si allargavano fra i suoi nemici questi ultimi temevano che lui potesse guizzar via da una delle estremità del semicerchio e si allargarono ancora di più per prevenire la mossa conan li osservava con la tranquilla vigilanza di un lupo e quando colpì lo fece con l'improvvisa devastazione di un fulmine in pieno nel centro del semicerchio il gigante che gli sbarrava la strada cadde squarciato in due in mezzo al petto e conan era già al di là dell'accerchiamento prima che i neri di destra e di sinistra potessero intervenire in aiuto del compagno colpito il gruppetto nell'arcata si preparò a ricevere l'assalto ma conan non si lanciò alla carica contro di loro si voltò e fronteggiò i nemici senza emozione apparente e di certo senza la paura questa volta i neri non si sparpagliarono in una linea sottile avevano imparato che era inutile dividere le proprie forze contro una simile incarnazione di furia distruttrice si raggrupparono in una massa compatta e avanzarono verso di lui senza precipitazione conservando la formazione assunta conan capì che se veniva a contatto con quella massa di ossa e muscoli artigliati ci sarebbe stato un unico risultato una volta stretto in mezzo a loro dove i neri potevano raggiungerlo con i loro artigli e sopraffarlo con la maggior prestanza fisica nemmeno la sua ferocia primitiva l'avrebbe spuntata lanciò un'occhiata al muro e vide una sporgenza simile a una mensola in un angolo della parete occidentale cosa fosse non lo sapeva ma serviva bene al suo scopo cominciò a indietreggiare verso quell'angolo e i giganti avanzarono più velocemente evidentemente pensavano di essere loro a spingerlo verso quell'angolo e il cimmero trovo tempo per riflettere che essi lo consideravano con tutta probabilità un membro di un ordine più basso mentalmente inferiore a loro meglio così niente è più disastroso che sottovalutare l'avversario il cimmero era adesso a poche braccia dal muro e i neri si avvicinavano rapidamente pensando di imprigionarlo contro l'angolo prima che lui si rendesse conto della situazione il gruppo allarcata aveva abbandonato la posizione di guardia e si stava affrettando a raggiungere i compagni i giganti avanzavano quasi piegati in due con gli occhi che risplendevano di un bagliore infernale i denti che scintillavano bianchi le mani adunque protese come per parare l'attacco si aspettavano una mossa improvvisa e violenta da parte della preda ma quando quella mossa giunse li colse completamente di sorpresa conan alzò la spada fece un passo verso di loro e poi si voltò e corse verso il muro raccolse i muscoli e scattò come una molla balzando alto in aria e la mano tesa con le dita piegate a uncino fece presa sulla sporgenza ci fu un improvviso rumore di rottura e il ripiano sporgente cedette facendo precipitare il cimmero di nuovo nel cortile conan cadde sulla schiena che nonostante i muscoli d'acciaio si sarebbe rotta se non fosse stato per il terreno erboso e si risollevò in piedi come un gatto fronteggiando i nemici gli occhi non avevano più quel lampo di temerarietà ora fiammeggiavano come due globi azzurrini infuocati i capelli gli si erano rizzati le labbra erano contratte in un ringhio in un attimo la situazione si era trasformata da un gioco d'azzardo in una battaglia di vita o di morte e la selvaggia natura del cimmero rispondeva con tutta la furia del primitivo i neri sorpresi per un attimo dalla velocità dell'accaduto cominciarono a sciamare verso di lui per sopraffarlo ma proprio in quell'attimo un urlo ruppe il silenzio voltandosi i giganti videro una terribile folla ammassarsi nell'arcata i corsari ondeggiavano come ubriachi bestemmiavano incoerenti erano istupiditi e meravigliati ma avevano in pugno le spade e avanzavano con una ferocia per niente sminuita dal fatto che non comprendevano cosa stessa accadendo i neri li osservavano stupiti e in quell'istante conan gridò con rabbia e colpì nel mucchio come un fulmine dal taglio affilato di un rasoio i neri caddero sotto la sua spada come un grano maturo e gli zingarani urlando con furia rabbiosa si lanciarono di corsa barcollando per il cortile e si precipitarono sui nemici giganteschi con zelo assetato di sangue erano ancora scossi emergendo pigramente dal torpore della droga avevano sentito sancia che li scuoteva freneticamente e metteva loro in pugno le spade e avevano sentito che la ragazza li incitava a qualche sorta di azione non avevano capito tutto quello che diceva ma la vista di estranei e del sangue sparso era stata sufficiente in un attimo il cortile si era tramutato in un terreno di battaglia che ben presto rassomigliò a un mattatoio gli zingarani ondeggiavano e barcollavano ma manovravano le spade con potenza ed efficacia imprecando copiosamente e dimenticandosi in fretta delle ferite tranne quelle subito fatali di numero erano molto superiori ai neri ma questi ultimi non si dimostravano antagonisti inferiori torreggiando al di sopra degli assalitori creavano scompiglio con denti e unghie lacerando la gola degli uomini e menando colpi a pugno chiuso che schiantavano i crani mischiati nel corpo a corpo i corsari non potevano usare a loro vantaggio la superiore agilità molti erano ancora troppo istupiditi dal sonno drogato per evitare i colpi loro indirizzati combattevano con la ferocia cieca di vestie selvagge troppo intenti a procurare la morte per cercare di evitarla il rumore dei colpi di spada era come quello delle mannaie dei macellai e gli urli le grida e le imprecazioni erano terrificanti sancia rabbrividendo al riparo dell'arcata era stordita dal rumore della lotta aveva un'impressione meravigliata di un caos roteante nel quale l'acciaio balenava e colpiva braccia si agitavano volti ringhianti apparivano e scomparivano corpi tesi si scontravano rimbalzavano si abbigliavano in una danza demoniaca di follia i dettagli si delineavano a sprazzi come schizzi neri su uno sfondo sanguigno vide uno zingariano accecato da un largo brandello di scalpo che gli pendeva davanti agli occhi irrigidirsi e conficcare la spada fino all'elsa in un ventre nero udì distintamente il corsaro grugnire mentre colpiva e vide gli occhi giallastri della vittima rivoltarsi in un'improvvisa agonia mentre sangue e intestini uscivano dalla ferita il nero moribondo afferrò la lama con le mani nude e il marinaio continuò a tirare ciecamente e stupidamente poi un braccio nero si strinse attorno alla testa dello zingariano un ginocchio nero si piantò con forza crudele nel centro della sua schiena la testa fu tirata all'indietro a un'orribile angolazione e qualcosa scricchiolò al di sopra del rumore della lotta con lo schianto di un ramo secco il nero abbandonò il corpo della vittima e proprio in quell'istante qualcosa simile a un lampo di luce azzurra balenò attraverso le sue spalle da destra a sinistra il nero barcollò la testa gli si reclinò sul petto e poi cadde orribilmente a terra sancia si sentì male con la voglia di vomitare fece inutili tentativi di voltarsi e fuggire da quello spettacolo ma le gambe non le ubbidirono e neppure poteva chiudere gli occhi anzi li teneva spalancati disgustata piena di ribrezzo e di nausea provava tuttavia il fascino spaventoso che aveva sempre sentito alla vista del sangue eppure quella battaglia trascendeva qualsiasi combattimento avesse mai visto fra esseri umani nelle scorrerie ai porti o nelle battaglie per mare e poi vide conan separato dai compagni dall'intero gruppo dei nemici il cimero era stato avviluppato da un'ondata nera di braccia e corpi e gettato a terra i neri avrebbero fatto in fretta ucciderlo se il cimero non avesse trascinato con sé uno dei loro il cui corpo lo proteggeva i neri menavano calci e artigliavano il cimero cercando di strappar via il loro compagno che torceva tutto ma conan con i denti piantati profondamente nella gola del nero si teneva saldamente avvinto al suo scudo agonizzante un assalto degli zingarani costrinse i neri ad allentare la pressione conan gettò di lato il cadavere e si alzò insanguinato e terrificante i giganti torreggiavano su di lui come grandi ombre nere artigliando e colpendo l'aria con colpi terribili ma il cimero era difficile da colpire o da afferrare come una pantera resa pazza dalle ferite e ad ogni movimento della sua spada zampillava sangue aveva già ricevuto tante ferite da uccidere tre uomini normali ma la sua vitalità taurina era ancora enorme il suo grido di guerra si innalzò di sopra del frastuono della mischia e gli stupidi ma furiosi zingarani ne furono rincuorati e raddoppiarono i colpi finché il rumore della carne lacerata e delle ossa rotte soffocò quasi le urla di dolore di rabbia i neri ondeggiarono e si aprirono la strada verso l'arcata e sancia gridò vedendogli arrivare e fuggì via i neri si ammassarono nella stretta arcata e gli zingarani li colpirono alle spalle martellandoli con urla di trionfo l'arcata diventò un macello prima che sopravvissuti riuscissero superarla e si sparpagliassero ognuno per suo conto la battaglia allora si mutò in una caccia per i cortili erbosi super le scalinate scintillanti super i tetti in pendenza delle fantastiche torri persino sulle larghe cima dei muri i giganti fuggivano spargendo sangue ad ogni passo inseguiti senza misericordia dai barinai come da lupi messi alle strette alcuni di essi resistevano fino all'ultimo e alcuni uomini morivano ma il risultato finale era sempre lo stesso un corpo nero pieno di ferite che si contorceva sull'erba o che veniva scagliato e cadeva ondeggiando dal parapetto o dal tetto di una torre sancia si era rifugiata nel cortile dello stagno acquattata in un angolo tremante di paura all'esterno ci fu un grido feroce un rumore di piedi sull'erba e attraverso l'arcata spuntò una figura nera macchiata di sangue era il gigante che portava in testa la fascia ingioiellata gli era alle spalle un corsaro tarchiato il nero si voltò proprio sul margine dello stagno stringeva in pugno la spada raccolta da un marinaio morente e quando lo zingarano si precipitò con furia su di lui colpì con l'arma per lui inusitata il corsaro cadde con il cranio spaccato ma il colpo era stato inferto così goffamente che la spada si spezzò in mano all'ultimo gigante sopravvissuto questi scagliò la spada contro le figure che si ammassavano nell'arcata e si lanciò verso lo stagno con il volto contorto in una maschera d'odio conan si fece largo fra la folla che ingombrava il passaggio e avanzò a passo di carica sull'erba ma il gigante spalancò le braccia e dalle sue labbra proruppe un grido inumano l'unico suono emesso da un nero in tutto il corso della battaglia il nero urlò al cielo il suo terribile odio e l'urlo fu come una voce ululante che provenisse dal fondo di un abisso a quel suono gli zingarani barcollarono e si fermarono ma conan non esitò silenziosamente menò un colpo omicida la figura d'evano ferma ai margini dello stagno ma proprio mentre la spada grondante frustava l'aria il nero si voltò e balzò in alto per un brevissimo istante tutti lo videro come ferma mezz'aria al di sopra dello stagno poi con uno scroscio che scuoteva la terra le acque glauche si alzarono avviluppandolo in un'eruzione verdastra conan si arrestò nel mezzo dell'affondo appena in tempo per evitare di precipitare nello stagno e fece un balzo indietro spalancando le braccia possenti spinse all'indietro tutti i marinai ora lo stagno verde sembrava un geyser e il rumore saliva livelli assordanti la grande colonna d'acqua continuava ad innalzarsi e sulla cima le fioriva una bianca corolla di schiuma conan guidò gli uomini all'arcata spingendoli davanti a sé incitandoli a piattonate il ruggito del getto d'acqua sembrava averli privati delle loro facoltà vedendo che sancia era come paralizzata con gli occhi spalancati per la paura fissi sulla colonna d'acqua in eruzione le si avvicinò con un urlo che penetrò attraverso il rombo dell'acqua e la scosse dal suo istupidimento la ragazza corse verso di lui con le braccia aperte ed egli la prese sotto un braccio e corse fuori dal cortile nel cortile che dava all'esterno i sopravvissuti si raccolsero stanchi e feriti e macchiati di sangue coi vestiti a brandelli e rimasero boccheggiando stupidamente a guardare la grande colonna vibrante che torreggiava sempre più contro la cupola azzurra del cielo la sua base verdastra era venata di bianco la corolla di schiuma era grande tre volte la circonferenza della base da un momento all'altro minacciava di esplodere e ricadere in un torrente vorticoso eppure continuava a innalzarsi verso il cielo gli occhi di conan passarono in rassegna il gruppetto malandato e macchiato di sangue bestemmiò vedendo che ne restava solo una piccola parte nell'agitazione del momento afferrò un corsaro per il collo e lo scosse così violentemente che il sangue delle ferite dell'uomo li macchiò tutti dove sono gli altri siamo tutti qui conan gli altri sono stati ammazzati da quei neri bene andiamo via allora la fontana sta per scoppiare da un momento all'altro moriremo tutti annegati annegati l'inferno scemo saremo trasformati in pezzetti d'osso pietrificato andiamo via maledizione a voi si diresse di corsa verso l'esterno un occhio alla torre verdastre ruggente che incombeva terrificante su di lui e l'altro al gruppetto di sbandati i stupiditi dalla bramosia di sangue dal combattimento e dal rombo di tuono alcuni zingarani si muovevano come in trance conan continuò a sospingerli il suo metodo era semplice afferrava i più lenti per la collottola e li scagliava violentamente attraverso l'arcata consolidando la spinta con un vigoroso calcione nel fondo della schiena insaporendo l'incitamento a fare in fretta con commenti pungenti sugli antenati dei malcapitati sancia mostrava la tendenza a restare attaccata lui ma il cimero ne scostò le braccia avvinghiate bestemmiando pesantemente e la incitò a muoversi con un tremendo sculaccione che la mandò a rotolare per il prato conan non abbandonò l'arcata finché non fu sicuro che tutti gli uomini ancora vivi fossero fuori dal castello e si fossero incamminati per la pianura diede un'ultima occhiata la colonna ruggente che si innalzava altissima contro il cielo e al cui confronto le torri parevano balocchi poi fuggì anche lui da quel castello di orrori innominabili gli zingarani avevano già attraversato il bordo della pianura e stavano fuggendo giù per i pendii sancia lo attendeva sulla cima della prima collinetta e il cimero si fermò un attimo vicino a lei per guardare il castello era come se un gigantesco fiore dallo stelo verde dalla corolla bianca ondeggiasse al di sopra delle torri e il rombo riempiva il cielo poi la colonna color verde già dei bianconeve scoppiò con un rombo che parve dividere in due i cieli e mura e torri scomparvero in un torrente tonante conan afferrò il braccio dalla ragazza e fuggì le vallate si susseguivano alle collinette e dietro di loro risuonava come il ruggito di un fiume un'occhiata alle sue spalle gli mostrò un largo nastro verde che si innalzava e ricadeva mentre sfiorava le cime delle colline il torrente non si era frazionato in mille rivoletti scivolava come un serpente gigantesco per le depressioni e le creste arrotondate e aveva una direzione ben precisa li stava seguendo questa constatazione diede a conan nuova energia sancia barcollò e cadde sui ginocchi con un gemito di disperazione di stanchezza conan l'afferrò di peso se la gettò sulle ampie spalle e continuò a correre il petto gli si appesantiva le ginocchia gli tremavano il fiato gli usciva attraverso i denti in grandi ansiti procedeva barcollando davanti a sé vedeva i marinai avanzare faticosamente spronati dal terrore che li aveva afferrati l'oceano gli apparve all'improvviso davanti agli occhi e nel suo sguardo incerto fluttuò il rifiuto ancora intatto gli uomini si precipitarono nelle scialuppe alla disperata sancia cadde sul fondo e giacque come un mucchietto in forme conan anche se il sangue gli rimbombava negli orecchi e il mondo gli ondeggiava rossastro davanti agli occhi prese un remo assieme ai marinai ansanti con il petto che scoppiava dalla fatica remarono verso la nave il fiume verdastro eruppe attraverso la frangia d'alberi che caddero come se i tronchi fossero stati tagliati di netto e mentre affondavano nei flutti color giada scomparvero l'onda proseguì lungo la spiaggia e lambì l'oceano e i flutti divennero di un verde ancora più intenso e sinistro una paura istintiva irrazionale si era impadronita dei corsari forzando i loro corpi martoriati e le loro menti vacillanti a uno sforzo ancora maggiore cosa temessero non lo sapevano ma sapevano che quell'abominevole lucido nastro verde era una minaccia tanto per i loro corpi quanto per le loro anime conan invece sapeva cosa temere e quando vide l'ampia linea scivolare nelle onde e dirigersi nell'acqua verso di loro senza alterare il suo percorso estrasse l'ultima stilla d'energia con tanta furia da spezzare il remo che stringeva in mano e finalmente le prore delle scialuppe sbatterono contro la fiancata di legno del rifiuto e i marinai si arrampicarono barcollando su per le catene lasciando le scialuppe alla deriva sancia salì a bordo portata spalla da conan inerte come un cadavere e venne scaricata senza tante cerimonie sulla tolda mentre il cimmero afferrava il timone urlando ordini ai resti della ciurma durante quegli avvenimenti conan aveva assunto il comando senza domande e i marinai l'avevano seguito distinto ora si agitavano qua e là come ubriachi manovrando meccanicamente cime e pennoni la catena dell'ancora liberata dai ceppi ricadde nell'acqua le vele si srotolarono e si gonfiarono nel vento il rifiuto scricchiolò e si scosse muovendosi maestosamente verso il mare aperto conan lanciò un'occhiata riva come una lunga lingua di smeraldo fiammeggiante un nastro lambiva l'acqua minacciosamente a un remo di distanza dalla chiglia del rifiuto ma non riusciva ad avanzare oltre da quelle estremità della lingua il suo sguardo si spostò su un interrotto rivolo di verde cangiante che attraversava la spiaggia bianca e saliva per i pendii fino a confondersi nella distanza azzurrina il cimmero riacquistando il fiato sogghignò alla ciurma affaccendata sancia era ferma vicino a lui con le guance rigate da lacrime esteriche i calzoni di conan pendevano in brandelli insanguinati la cintura e il fodero erano spariti la spada conficcata nella tolda al suo fianco era ammaccata e incrostata di sangue grumi di sangue gli incrostavano la chioma nera e un orecchio gli era stato quasi strappato le braccia le gambe il petto e le spalle erano morsicati artigliati come da pantere ma aveva la forza di sogghignare mentre allargava le gambe possenti e girava il timone con una dimostrazione di pura potenza muscolare e ora conan chiese la ragazza esitando sancia il saccheggio dei mari una ciurma da quattro soldi e per di più a brandelli ma che può manovrare la nave e i marinai se ne trovano sempre vieni qua ragazza e dammi un bacio un bacio tu pensi ai baci in una situazione come questa la risata del cimmero si alzò di sopra dello schiocco e del rombo delle vele mentre l'afferrava di peso con un braccio possente e baciava le sue labbra rosse con uno schiocco di piacere io penso alla vita i morti sono morti e quel che è stato è stato ho una nave e un equipaggio per combattere e una ragazza con le labbra come vino e questo è tutto quello che ho mai chiesto leccatevi le ferite amici e stappate una botte di birra scura state per manovrare una nave come mai è stata manovrata prima cantate danzate mentre vi preparate maledizione al diavolo gli specchi di mare non frequentati dirigiamoci in acque dove i porti siano ricchi e i mercantili pieni di ricchezze da saccheggiare fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentare conan lo stagno dei neri grazie per l'ascolto grazie 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 grazie